party club mille luci mandrugada ben tre discoteche sono state chiuse a portoviro e purtroppo sono rimasti soli ricordi abbiamo già visitato quello che restava della discoteca mandrugada oggi tristemente siamo alla discoteca secret ex litle park ed è con questo nome litle park che la vogliamo ricordare litle park era la discoteca migliaia di giovani sono cresciuti con la sua musica beat pop disco techno house ma il comune denominatore in tutte le generazioni era la voglia di partecipare di divertirsi di stupire qui decine di generazioni sono passate ognuno col suo viaggio ognuno diversa come dice il poeta e vederla così è troppo triste iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale è è è